Si è fatto giorno nel frattempo, bene Tutta la notte a fare casino in miniera e finalmente si è fatto giorno Comunque benvenuti nel secondo episodio Che in realtà sarebbe un po' più l'episodio 4 Però è la seconda parte del video di prima Quindi in miniera a riscare la vita Per cosa? Per farci un secchio Questo secchio mi servirà per farmi una piantagione Però il problema è che c'è il ghiaccio nell'inverno Quindi ghiaccia questa piantagione E questo è un bel problema Bene raga, vi sono fatto un set di roba migliore Però io devi pareggiare qua E ok, qui può andar bene Vi faccio questi qua per andare su Benissimo, vediamo la neve Io dovrei fare tipo delle fence Questa strada qua, tu c'è un albero proprio in mezzo Che dà un fastidio, muori l'albero Finalmente abbiamo tolto pure quest'albero Ho tolto qui Da 6 petri Mi sono fatto Ci siamo fare così Chiudiamo tutto No, ho sbagliato Questo qui no Era un bug oppure posso mettere proprio sopra? Sì, posso metterlo sopra Rita, guardate qua Ma che cazzo No, c'è qualche bug nel mio mondo Ok, effetto Questo qui può andar bene Non capisco perché si è messa la neve da sola Però vabbè Ok, qui c'è l'entrata per la nostra Vedi, vedi, si mette la neve Si mette la neve Si mette la neve da sola Va bene Così può andare No, questo qui non ci serve Prendiamo questi Oh, bello così Guardate che figata E qui c'è la nostra piantagione Che dobbiamo riempire di torce Acqua Torcia Torcia Bene Il problema è che se noi vogliamo coprire quest'acqua Ci servirebbero i cosi della palude I cosi della palude Oppure questo parte qui In alternativa In teoria dovrebbe irrigarsi Ora si prova C'è una zappa Qui c'è ancora l'acqua per dire Si L'acqua funziona Se io metto Si irriga In teoria si Vediamo In pratica Si o no Vediamo un po' Ok Non sembra Si raga Funziona Funziona Assurdo raga Funziona Ok Può irrigarne tre Se non sbaglio Da uno Ci metto il vetro Perché è molto più bello Perché c'è sto bug C'è un bug Che invece me lo mette lì così Non so neanche perché In realtà Raga Ok Credo di aver risolto il problema neve In questo modo Solo che è un po' bruttina Ok Qui il vetro è pronto Crafting table Faccio così Forse potrei piantare anche Sì piantare Piantare anche Delle barbabietole Quindi ora ci provo Faccio un arco Qui Anzi senza arco Così aperto Usato un pezzettino così Per decorazione Perché si paga? Ok così E poi faccio un po' Così Allora Mi serve dell'acqua C'è ancora l'acqua rega Non si è ghiacciata Forse per non farla ghiacciare Basta ricoprirla Questa qui si è tutta ghiacciata Tranne in quest'angolo Vedi qua Adesso lo rompo esce l'acqua Certamente Ditemi nei commenti Se volete un video riguardo La Xbox One Ok Mettiamo qui l'acqua E' bello perché si abbassa Quindi posso anche vedere Attraverso se si sta ancora facendo Mettiamo Le barbabietole E anche Un botto di arcoscelli Ok Mi sono fatto una mega piantagione Qua E' tutto pieno di arcoscelli Comunque Questo video Già termina qui Abbiamo fatto una bella piantagione Con una delle molto acab E' anche molto brutta Per dire la verità La migliorò sicuramente Comunque Noi ci vediamo Al prossimo video Arriviamo a 5 like Per questo video Noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima